Se volete, seguitemi su Instagram, su YouTube YouTube stiamo pubblicando un botto di roba, regà E arrivano pochi contenuti dei Fortnite su YouTube Uno perché, vabbè, lo sto riprendendo oggi Due perché su Fortnite, regà, non sono tanto bravo Arrivano più shorts perché magari le giocate arrivano, quelle sì Però per quanto riguarda win, eccetera, non sono pro player Quindi quelle stentano ad arrivare E... che dire, arriva primo su Fortnite Seppure fai 20 kill, arrivi terzo, sei una melma Easy kill? Cacchio Sembrava, non l'è stata Sembrava easy kill ma non l'è stata Let's go Andate via, andate tutti via Cacchio Let's go Chi è questa? Non la conosco, regà Che roba è? Che roba è? Pistola aggancio, come aggancio? Mattene il lobby Vamos Oltre Fortnite porto Overwatch 2 Riporterò Rocket League E gioco anche altra roba Ma off streaming Ah, e c'è anche Dead by Daylight Scusa, mi stavo a dimenticare Poi c'è altra roba che gioco off streaming Ma che non posso portare in live Altrimenti Altrimenti È troppo Altrimenti è troppo Troppi giochi Otrimenti di pane Scusa, mi stavo a dimenticare E' altra roba che fai Allora Scusa, mi stavo a dare E' altra roba che fai Ah che kaiser Ah non è possibile Ah non è possibile Non so se le avrò io o qualcun altro Ciao Stefano certo che ti saluto Bentrovato benvenuto Mo ho lasciato il pompa libero 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 Una via di fuga Teoria ce l'abbiamo con questa Ma Quasi finito Ho lasciato il pompa libero E poi ha fatto il topastro un topo loco coroncina quella è la coroncina del perdono ok let's go let's go no ma che mira adesso è una melmo siamo rimasti in quattro quindi tre nemici due stanno là sotto e il terzo dove uno se n'è andato portiamoci a casa l'arena ti prego marinoski ecco quello là sopra mamma mia mamma mia rimane quello e quest'altro questo a mezzo al panino noi siamo le provola oh kaiser oh oh a gioco che cacchio fai perché il gioco ha fatto così mi sono incastrato dai mo perdo per colpa di no so punti in più let's go let's go si è così pam 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 para para pam pam no 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 Grazie per la visione!